Io sono Cosimo Marotta, sono il sindaco del Comune di Radusa, di questa piccola comunità al centro della Sicilia. La giornata di oggi è una giornata memorabile e storica per la nostra piccola comunità perché ci fa ricordare la democrazia. Noi per il sacrificio degli angloamericani oggi possiamo dire che viviamo giorni di pace, giorni di democrazia e il tutto non ci può fare altro che gioire. L'ho vissuta la prima volta il 10 luglio, che è il giorno dello sbarco a Pachino. Sono stato come oggi molto emozionato perché questa vicenda l'ho letta sui libri di storia e l'ho sentita raccontare agli anziani e a mia mamma che hanno vissuto quei giorni terribili per il dominio del nazifascismo ma mi raccontano anche dell'accoglienza che hanno fatto a tutti voi e mi ricordo anche che mio nonno e mia mamma mi dicevano che gli americani, i canadesi anche, soprattutto voi, dividevano della cioccolata che per la mia comunità all'epoca molto povera era qualcosa di strabiliante, cosa che non avveniva tutti i giorni, forse qualcuno non l'aveva mai mangiato in vita sua e di questo vi ringraziamo.